Ma è un ritornoschio su Lion Lab, e oggi che cosa abbiamo? E oggi che cosa abbiamo? Un'animazione paurosa, più di una! Un sacco di animazioni paurose! E oggi, c'ho le cuffie buone, quindi finalmente potrò sentire che cacchio dicono Perché ogni volta era un lavoro di fantasia, voi dovete sapere Perché poi, per voi le traducevo queste, quindi dovevo essere anche bravo Però era completamente impossibile, cosa ho toccato? Mamma mia, ho fatto del danno, speriamo di no Siamo pronti? Andiamo a vedere? Allora, inizia... Sentiamo un po' com'è, perché... Ok, bene, si sente bene Allora, è successa una storia, è successa a mio zio Partiamo subito col mistero e la paura, pronti, che sei squicquera Allora, non ho capito niente perché stavo parlando concretamente Allora, c'era questo suo parente, molto vicino a lui, erano molto stretti Si svegliava sempre molto presto, capito? Si svegliava presto e andava a fare una passeggiata intorno E poi ci diceva che aveva un terzo occhio e poteva vedere i fantasmi Vabbè, era uno zio un po' strano, sai no? Un po' scemo magari, no? Un pochino squinquernato Qualche volta sentivano durante la notte qualcosa muoversi intorno alla casa Magari era lo zio che faceva le passeggiate, capito? Poteva essere, no? Però un giorno, intorno alle 4 di mattina Porca miseria Sentivano Allora, aspetta, c'era la sorella Che stava andando, stava camminando con una tazza di caffè E sembrava che la sorella stava guardando per terra, no? E io le ho detto ciao Perché sei sveglia a quest'ora? Però lui, la sorella ha continuato a camminare Senza dargli retta Fa un po' cagare addosso, un pochino E gli ha detto Forse è di malumore, non mi sta rispondendo per quel motivo, no? Può essere E si è messa al computer Poi c'era lo zio che è sceso Questa storia è un po' intricata Non sto capendo un cacchio Però c'è lo zio che è sceso al piano di sotto Ha visto la madre Non si sa che cosa voleva fare Ha provato a parlarci Questo è lo zio col terzo occhio Ha provato a parlare alla mamma Cioè lui ha visto la sorella E lo zio ha visto la mamma Ha provato a parlare Ha detto Boh, è strano Non rispondeva E aveva gli stessi vestiti del giorno prima La mamma l'ha ignorato Come la sorella l'ha ignorato prima, no? Questa storia è creepy, però Perché la mamma stava guardando giù Ma è zitta Sto cagando addosso Anche se non sto capendo niente Lo zio sapeva che qualcosa Stava andando molto male E così è corso al piano di sopra Ha chiuso Ha chiuso la porta Ha spento la luce Ha cercato di dormire Che idea è? Scusa, c'è un mostro in casa Si è svegliato la mattina Alle 10 di mattina Quindi ha dormito anche un bel po', no? E ha provato a raccontare Sia alla mamma Quindi era sempre lui che ha visto Sia alla mamma Che alla sorella Che le ha viste Così in quella situazione Alle 4 di mattina Ma loro non ricordavano niente E lui era pauro Ma lui chi è? Lo zio? Cioè non ho capito Chi è che sta raccontando la storia Lo zio? Quindi lui è un bambino È il nipote dello zio, no? Suppongo Vabbè, però Dormiva di nuovo Un'altra volta E ha sentito qualcosa Ai piedi delle Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che cos'era quella cosa lì? Porca miseria C'era un mostro ai piedi del letto Quindi ha chiuso gli occhi E ha pensato Vai via E si è nascosto la testa sotto le copre Ottima idea Mamma mia Quindi Sono sembrate passate ore Poi ha guardato E lei era andata via Mi sarei cagato addosso di più Così Il mio nonno Il mio zio ha dormito Con la luce accesa E dopo quella notte Non ha più Vissuto niente del genere Porca miseria Meno male Io mi sto cagando addosso Perché sento Sento il filo delle cuffie Che mi tocca le gambe Mamma mia Cioè questa storia Mi ha fatto veramente cagare addosso E questo mi porta a ricordare Che c'è una cosa Che ho dimenticato Voi ricordate che la scorsa volta Una delle scorse volte Io ho messo quel cappello da mago E vi ho detto Oh ragazzi Provi vi faccio vedere Dei trucchi di magia So bravo L'imparo Eh Non ne ho capito niente Perché nella mia scatola Non c'è il foglietto Delle istruzioni Quindi qua Nasce un problema Cioè se non mi dicono Come si fanno i trucchi Io che devo fare Ci sono un sacco di cose Però andiamo avanti Vediamo un po' Un'altra storia Non c'entrava niente Però volevo giustificarmi Perché Se no sembra che sono scemo io No Mancano le istruzioni Allora lui era con i suoi amici Ed avevano circa vent'anni Ed erano su una macchina Tipo Uber No? Avete preso Tipo taxi Praticamente stavano Percorrendo una strada E tutti nella strada Sapevano che dietro Quella strada C'era una storia Paurosa Quando sembravano Arrivati alla fine Del percorso Oh mio dio Il guidatore Si è fermato E ha fatto salire Una ragazza Aia Ricordiamoci che questa storia Si chiamava tipo Bloody Mary Teniamo sempre presente Praticamente questa ragazza Era molto carina E vestita con un bellissimo Vestito bianco E diceva che lei Era nella sua Serata Non so Tipo che La sera Del suo matrimonio Oh mio dio Quando lui l'ha guardata Ha visto che lei Aveva del sangue Che corrava giù dagli occhi Porca miseria Così lui l'ha detto Al suo amico E l'amico si è girato Che gli ha detto Che la ragazza Poteva essere un fantasma E così entrambi Hanno iniziato a vibrare O tremare Probabilmente E' un po' pauroso E praticamente La ragazza ha chiesto Se stavano per caso Parlando di lei Così hanno chiesto Al guidatore Di fermarsi Ma lui gli ha detto Non siamo ancora arrivati Mi dispiace Oh mio dio Ok praticamente La tipa dietro Ha iniziato a dire I loro nomi E la ragazza Si è messa a piang Mi sto cagando addosso Mi sto tenendo la sedia Non voglio tenere Aiuto ragazzi Che brutta storia Questa guava A cagare addosso Vabbè Così hanno continuato ad andare Erano circa 10 minuti Che andavano E poi è arrivato il mattino Dopo un po' Non so quanto tempo Forse non erano 10 minuti Forse più tempo Però praticamente Il fantasma dal sedile di dietro Era sparito Non c'era più La mattina seguente Lui stava pensando A quello che era successo Mentre faceva la doccia E ha notato Allo specchio Che c'aveva dei Gratti sul collo Mamma mia Porca miseria Che brutta cosa Qua c'è Questa è una storia di demoni Allora vi dico la verità Non mi è piaciuto Che c'era la croce Lì all'inizio A me non piacciono Questo genere di cose Quindi Vi dico una cosa Facciamo una cosa Questa qui La saltiamo a pie pari Perché Vabbè C'è un diavolazzo Pensavo fosse roba Un po' più Brutta Invece dai Non è così brutta Guardiamola Non penso sia niente di che Vediamo C'è lui che Era a casa Ci siamo un po' spoilerati Il mostro Però devo vedere Perché non è che vi faccio vedere Roba brutta brutta Cioè un conto è brutta Ma brutta brutta No brutta una volta Va bene Brutta brutta No Capite no Io sono pulito In un certo senso Family Friendly Sì Dipende Non quello un po' troppo banalotto Che non bisogna dire Neanche pisellino Perché quel Family Friendly Lì secondo me È morto Però Family Friendly Che non bisogna dire cose orribili Quello certo Quello sono d'accordo Insomma Non è Family Friendly per tutti La storia comunque è andata avanti un po' lenta all'inizio Praticamente ci sono queste persone Che stanno lì a cena E uno di loro Finalmente è andato a dormire Mentre dormiva Ha sentito dello scricchiolio E ha veduto E ha veduto una figura strana Un'ombra Tipo sul tetto Una cosa che capita Insomma Praticamente si è cagato addosso Qua mi sto cagando un attimo addosso anch'io E si è chiuso Nella stanza Ci sono diversi ragazzini In questa C'è uno che è sveglio Uno che dorme ancora Tutti gli altri dormivano I genitori Dormivano tutti Però tutti sentivano Questo scricchiolio strano Quindi il padre ha preso il fucile Ha detto Oh qua Scasso tutto E che poi sembra cagato addosso Anche lui poverino Però Capito Doveva difendere la famiglia Quindi ha detto No qua Scasso tutto io Ha aperto E è andato a vedere Che cosa stava succedendo E è venuto fuori Che c'era il vicino Che ha detto Oh guardate che avete una finestra scassata Però vi aiuto io A aggiustarla La pipes Io ho sentito pipes Però qua è vetro Glass No pipes Tipo il tubo rotto Ma cosa c'entra il tubo con la finestra Non ho capito Perché si sono messi a scavare di notte Non l'ho capita sta cosa Tipo che hai rotto un tubo Ho capito Un tubo rotto Di notte Può chiudere l'acqua Lo aggiusti domani mattina Dormivate Non l'ho capita Poi c'è una tenda Che uscilla lì davanti a me C'è una tenda della finestra Che fa così uscilla E me inquieta Vabbè C'è rimasto lui da solo comunque Lì dove c'è il tubo rotto Sono passati dieci minuti E lui si domandava Perché ci mette così tanto A prendere Insomma I materiali per riparare Che mancano Il tubo nuovo La paga E ha visto qualcosa Che si muoveva molto velocemente Nel giardino E qua arriva il demonazzo State pronti Perché questo qua È proprio brutto Vedi È un po' ninja Salta un po' Tipo lucertola Però lui L'unica cosa Era cagato addosso E l'unica cosa Che poteva fare Era guardare Questa figura Che correva Poi cosa sta facendo Questa figura Non lo so Forse un'esibizione Una roba Una danza D'amore Sto cercando di sdrammatizzare Perché altrimenti Ci caghiamo addosso Qua C'è bisogno Poi finalmente Questo mostriciatolo Si è fermato Dietro di lui Ed era un diavolazzo Proprio bruttissimo Altissimo Con delle gambe sottili Tutte puntute E pure delle cornazze E poi tutto sclerato Che faceva così Un pochino scemo Quindi lui Non si poteva muovere Ha paralizzato Davanti a questa situazione Paurosissima E quel coso Si è avvicinato E gli ha fatto Perché è un po' Antipatico E lui Non aveva mai visto Niente di così grande Gli sembrava una pecora Ma un po' più grande Non ha niente Però finalmente Quel coso Se ne è scappato via E lui Si è tranquillizzato Ha detto un po' Oh mio dio Posso muovermi Poi a questo punto Ha urlato Questa cosa è normale Perché se ti spaventi molto Cioè Sei paralizzato Quindi non è che puoi Quindi praticamente Lui lì per lì Non potrebbe far niente E poi dopo Ha potuto raccontare Questa storia A tutti i suoi genitori Però Il vicino Gli ha detto Ma no Ma lascialo stare Un bambino Se lo sarà inventato Dopo tanto tempo I suoi genitori Hanno venduto la casa Questa è Granny E qui è la storia Che finisce Però una volta Mentre era Molti anni dopo Ha avuto un incubo E ha visto di nuovo Quel mostro E ha visto Che quel mostro Si nascondeva Dietro gli alberi E è qui E ha detto Non ti puoi nascondere E si è svegliato Da questo incubo E mentre era a scuola C'era un annuncio Oh mio dio Un suo compagno di classe È stato ucciso E lui ha pensato Se il suo sogno Potesse avere qualcosa Cosa a che fare Con questo incidente E l'ha detto A tutti Ma nessuno Gli credeva Vabbè insomma Qua va avanti male Insomma E ogni notte Lui aveva lo stesso incubo Però non più Non ho capito Però ogni notte Dorme con la Ogni notte Dorme con la Con la coperta Mi sto cagando Vabbè basta Porca miseria Ci siamo cagati Trovo Non ho capito più niente Basta basta Cagati abbastanza Sì Fine Ok Non li vediamo più Sti video paurosi Secondo me Cosa dite Non lo so Scrivetemi nei commenti Se volete vederne altri Oppure no Perché io Da un lato Mi scagazzo Cioè qua c'è il cricetto demoniaco Che lui è demoniaco Quindi dovrebbe contrastare Questi altri mostri Vabbè Fatemi sapere Io per adesso sono un attimo Scagazzato Quindi chiudo il video Lion out